Già averli visti lì con i faldoni in mano fa il suo effetto, perché questi sono i portoni di Mediobanca. Scorgere i finanziari in borghese, intesi però come guardia di finanza che varcano quelle soglie, è di per sé notizia. Mediobanca è un simbolo e fino a qualche tempo fa una cosa così sarebbe stata inimmaginabile un affronto. I tempi invece sono cambiati, lo hanno fatto parecchio, e così succede che un'ispezione possa avere come oggetto il tempio del capitalismo italiano. Tutto è partito dalla Consob, che di mestiere sorveglia i mercati. Operazione di routine per verificare l'operatività della banca, hanno detto tutti. Solo che stavolta un po' di puzza di bruciato si è sentita subito, perché gli ispettori della Commissione si sono fatti accompagnare dalle fiamme gialle e in genere capita quando c'è da contestare reati che riguardano l'abuso sui mercati e soprattutto quando c'è da acquisire documenti, cosa che oggi sembra sia stata fatta con cura. Lo testimoniano le ore in cui sono stati tutti lì dentro, dalle 9.30 in poi è stato infatti un susseguirsi di voci. Al culmine del peggio, l'indiscreazione più diffusa citava il solito nome, Ligresti, il titolo è arrivato a perdere tre punti, poi però è risalito e ha chiuso sotto di uno 0,75% in difesa. Un portavoce della Consob ha spiegato che l'ispezione è avvenuta per verificare potenziali abusi di mercato commessi nel 2013 e avvenuti nell'ambito di operazioni dove l'istituto ha agito come intermediario negoziatore. Anche questo è un segno dei tempi. Più che come notaio, Mediobanca ora lavora come broker, cioè media, e in fondo è la natura racchiusa storicamente nel marchio che non sempre è stata seguita alla lettera. Le ipotesi ora parlano di insider trading e il reato di chi, conoscendo notizie riservate, fa ricchi affari. Una delle due operazioni sotto esame riguarderebbe l'acquisto agostano, targato Unipol, di un 26% delle azioni di risparmio Milano Assicurazioni. L'altra, la vendita in collocamenti in aprile da parte del Leone di Trieste del 12% di banca generali. Mediobanca, avendone abbassato il giudizio a marzo, poco prima dell'operazione, avrebbe forse scontentato qualcuno poi. E una volta no, non sarebbe mai successo.